Ti sei mai chiesto perché l'avocado è diventato uno dei frutti più amati e consumati al mondo? L'avocado, con il suo delizioso sapore e le straordinarie proprietà nutrizionali, ha conquistato un posto di rilievo nella categoria dei superfood. Esistono più di 50 varietà di avocado, tutte con dimensioni diverse, ma con le stesse preziose proprietà. Ricco di fibre e grassi benefici, soprattutto grassi monoinsaturi che sono molto stabili e a lenta ossidazione, l'avocado aiuta a prevenire problemi cardiaci, riduce i livelli di colesterolo cattivo e trigliceridi e favorisce la salute cellulare grazie al suo alto contenuto di antiossidanti. Tuttavia, nonostante la sua popolarità e i suoi benefici, spesso non otteniamo il meglio dagli avocado a causa di errori comuni che commettiamo nel manipolarli e conservarli. In questo video ti spiegheremo quali sono questi errori da evitare per trarre il massimo beneficio dall'avocado. Uno degli errori più comuni che facciamo con l'avocado è tagliarlo prima che sia completamente maturo. Gli avocado non maturi hanno una consistenza più dura e meno cremosa, risultando difficili da tagliare e dal sapore meno gradevole. Sebbene mangiare un avocado non ancora maturo non abbia effetti negativi sulla salute, può portare a rinunciare a consumarlo e a dimenticarlo in un angolo del frigorifero in attesa che maturi. Questo può comportare una considerevole perdita di denaro se l'avocado finisce per essere scartato. Per evitare di sprecare gli avocado perché non sono maturi, è meglio acquistare quelli già maturi o attendere che maturino a casa prima di tagliarli. Ma come fare a capire se un avocado è maturo? Se la buccia al tatto ha una consistenza morbida, il frutto è pronto per essere mangiato. Se al tocco il frutto risulta troppo morbido, significa che è molto maturo e deve essere consumato in media entro due giorni. Un altro segnale è il colore della buccia. In alcune varietà come l'ass, la pelle diventa scura quando il frutto diventa maturo. La regola più generale è che più è chiaro il frutto meno esso sarà maturo. Un metodo semplice è tentare di rimuovere il picciolo prendendolo con due dita. Se si stacca facilmente, vuol dire che l'avocado è maturo. Se il frutto è ancora acerbo, sarà difficile rimuoverlo. Un'altra indicazione è la carne sotto il picciolo. Se ha il colore scuro, è segnale che il frutto è troppo maturo. In alcuni tipi di avocado, soprattutto quelli di dimensioni più grandi, il nocciolo interno si stacca quando sono maturi. Puoi quindi agitare leggermente l'avocado per sentire un leggero suono del nocciolo all'interno, il che ti aiuterà a capire se è pronto per essere mangiato. Attendere che l'avocado sia maturo prima di tagliarlo garantisce non solo un sapore migliore, ma anche il massimo beneficio dalle sue proprietà nutritive. Un altro errore comune è dimenticare di lavare l'avocado. Gli avocado sono frutti che passano attraverso diverse mani e processi di raccolta e trasporto prima di arrivare nelle tue mani. Pertanto, è necessario lavarli prima dell'uso per rimuovere batteri e sporcizia. Inoltre, gli avocado possono provenire da campi dove vengono utilizzati i pesticidi per il controllo dei parassiti. Se li consumi senza lavarli, questi prodotti chimici possono penetrare nella polpa e contaminare il tuo cibo. Lavare l'avocado non solo garantisce che sia pulito da eventuali contaminanti, ma protegge anche la tua salute prevenendo l'ingestione di batteri e pesticidi. Quindi, assicurati sempre di lavare accuratamente l'avocado sotto l'acqua corrente prima di tagliarlo e gustarlo. Acquistare molti avocado contemporaneamente è un altro errore da evitare. Gli avocado maturi hanno una breve durata e se ne compri molti in una volta, aumenta il rischio di perderne una buona parte perché semplicemente non hai il tempo di mangiarli tutti. Per evitarlo, è meglio acquistare solo la quantità che sai di poter consumare in poco tempo. Una volta maturi, gli avocado hanno al massimo una finestra di pochi giorni per essere consumati. Comprare solo la quantità necessaria di avocado non solo evita sprechi, ma assicura che tu possa godere del frutto al massimo della sua freschezza e delle sue proprietà benefiche. Un errore frequente è quello di refrigerare gli avocado troppo presto. Una strategia comune per evitare di perdere gli avocado è metterli in frigorifero appena li acquisti, ma questo può influenzare il loro processo di maturazione e ritardarlo se non sono ancora maturi. Ciò significa dover aspettare più a lungo per gustarli. Anche se è consigliabile refrigerare gli avocado maturi per prolungarne la durata, assicurati prima che l'avocado che stai per refrigerare sia davvero maturo. Se non lo è, lascialo all'esterno per completare il suo processo di maturazione. Se hai bisogno di accelerare il processo di maturazione, puoi avvolgere l'avocado in un foglio di alluminio insieme a una mela o a una banana. I gas emessi da questi frutti aiutano ad accelerare la maturazione dell'avocado. In questo modo, potrai avere avocado maturi pronti da gustare senza dover aspettare troppo a lungo. Saresti in grado di distinguere un avocado marcio da un avocado ossidato? L'avocado è molto delicato e si ossida facilmente non appena la polpa entra in contatto con l'ossigeno, facendola sembrare leggermente marrone nella zona in cui viene tagliato. Anche se questo ne influisce sull'aspetto, non rappresenta un rischio per la salute. Tuttavia, se apri un avocado e noti che è completamente marrone fin dal momento in cui lo tagli e presenta pezzi filamentosi o macchie più scure in altre regioni, devi scartarlo perché sta marcendo. Questo accade perché il suo processo di decomposizione è veloce e una volta maturo si deteriora rapidamente. Hai circa 4 giorni di tempo per consumarlo una volta maturo, prima che si deteriori. Consumare un avocado marcio può avere effetti spiacevoli sulla tua salute digestiva, quindi è meglio fare attenzione e scartare gli avocado che mostrano segni evidenti di decomposizione. Un altro errore comune è conservare l'avocado nel modo sbagliato una volta tagliato. Succede spesso di utilizzare metà dell'avocado e poi non sapere come conservare l'altra metà. Se la lasci semplicemente aperta nel frigorifero o in un contenitore, dopo poche ore la troverai ossidata. È quindi importante sapere come conservarlo correttamente. Fortunatamente è facile. Prendi un pezzo di pellicola trasparente e adagia su di esso la metà dell'avocado tagliata a fette, facendo attenzione che la polpa sia rivolta verso il basso sulla pellicola. Successivamente, avvolgilo bene evitando che vi sia aria intrappolata all'interno e completa la protezione mettendo tutto in un sacchetto ermetico dentro il frigorifero. Evitando che l'ossigeno entri in contatto con l'avocado tagliato, si riduce il rischio di ossidazione. Se preferisci, puoi anche spremere un po' di succo di limone sull'avvolgimento per una maggiore protezione. Un altro errore da evitare è spremere l'avocado. Se vuoi preparare un frullato potente che includa un avocado, devi evitare di metterlo nell'estrattore. La polpa dell'avocado è carnosa e può essere schiacciata facilmente, ma non spremuta. Quindi, se la metti in un estrattore, otterrai un gran disastro di sporco e perderai quasi tutto il frutto. Invece di usare un estrattore, è meglio tagliare la polpa dell'avocado a pezzi e aggiungerla a un frullatore insieme ad altra frutta. Il frullatore permetterà una facile integrazione di tutto e otterrai un frullato molto emulsionato e nutriente. Questo metodo non solo conserva tutte le proprietà benefiche dell'avocado, ma garantisce anche una bevanda dal gusto eccezionale e dalla consistenza perfetta. Incorporare l'avocado nella tua dieta è un vero tocca sana per la tua salute. Questo frutto delizioso, ricco di nutrienti essenziali, vanta una serie di incredibili proprietà che lo rendono un vero e proprio superfood. L'avocado è una fonte preziosa di antiossidanti, che combattono i radicali liberi e proteggono le cellule dai danni. Inoltre, l'alto contenuto di fibre nell'avocado aiuta a regolarizzare il transito intestinale e favorisce una digestione sana. Infine, le proprietà antinfiammatorie dell'avocado possono aiutare a diminuire il rischio di malattie croniche come le malattie cardiache e il cancro. L'avocado si inserisce facilmente in qualsiasi regime alimentare. La sua versatilità in cucina lo rende un ingrediente perfetto per tantissime ricette, da antipasti a primi piatti, fino a dolci e frullati. In più, l'avocado è facilmente reperibile in diverse varietà e a prezzi accessibili, rendendolo un alimento alla portata di tutti. Allora, cosa aspetti? Integra l'avocado nella tua dieta quotidiana e inizia a godere dei suoi numerosi benefici per la salute e il tuo palato.